Resterò sempre la prima donna ad aver partecipato ad una gara di Formula 1 Allora veramente si è rischiato Però io ho amato veramente le cose Nella mia vita sono stata stimolata da molte persone Ma soltanto da un tipo di automobile Una volta Fangio mi disse che guidavo a una velocità troppo alta E quindi correndo troppo a quei tempi e in quell'autovettura mi sentivo assolutamente impavida Sono veramente felice di aver passato la miglior parte della mia vita in gara E alla guida di quelle che per me sono le migliori vetture mai create Ora ho 88 anni e sono abbastanza vecchia per ammettere Che invidio la strada che si è appena aperta davanti a te Credi a qualcuno che lo sa I più fantastici chilometri sono tutti davanti a te